Che vedete è mia sorella, alla quale voglio porre una domanda. Possiamo inquadrare le scarpe di mia sorella? Dove le hai prese? Beh, queste è rivenute a Tokyo e sono leggeri come le piume degli uccelli. Come sempre l'uccello va tenuto in gabbia. In questo caso lui le tiene sotto ai piedi, gli uccelli. No, 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 sempre.